Roze e petali di rose stavolta non hanno trovato spazio, sobria la messa di ottava per Vittorio Casamonica i cui funerali celebrati appunto otto giorni fa nella chiesa di San Giovanni Bosco a Roma sono diventati un caso nazionale. Stavolta la funzione si è svolta nella parrocchia di appartenenza della famiglia la San Girolamo Emiliani a Morena blindatissima sin dalle prime ore del mattino e a celebrarla è stato quel don Francesco Fissore a cui inizialmente Casamonica si erano rivolti per le sequie. Oggi il prete svela ai nostri microfoni quello che è accaduto. Loro mi hanno chiamato prima che morisse a dare l'unzione. Io non mi hanno detto chi era o chi non era dice c'è uno che sta per morire venga io sono andato gli ho dato l'unzione e mi hanno chiesto se per caso cioè per caso quando morirà possiamo fare il funerale da un'altra parte? e ho detto certo c'è bisogno di un suo foglio scritto di un suo nulla osta? Ho detto no non c'è bisogno quindi mi sono stupito che sono stati gentili mi hanno chiesto anche il permesso e la motivazione era che qui è piccola vedete la chiesa la potete riprendere ci stanno 250 persone. Unici momenti di tensione all'uscita con dei battibecchi fra i familiari e i giornalisti ma alla fine tutto è tornato nella normalità in quella che è la parrocchia frequentata dai Casamonica. Lo so dai giornali no? Leggo le cose di quello che si dice ma qui come parroco molti mi hanno chiesto ma non ho mai sentito io non ho mai sentito niente mai visto niente i loro parenti ci sono dei bambini che vengono a giocare ho detto a tutti giocano qui con gli altri bravi tranquilli nessuno dice quelli sono i Casamonica cioè non si vede la differenza.